Io credo che la partita sia stata di grandissimo livello per due squadre che giocano a calcio, che vogliono proporre qualcosa con giocatori di qualità e sapevamo che era difficile, la partenza è stata sicuramente loro troppo forte e la nostra con poca attenzione. Perché? Perché poi c'è la qualità dei giocatori e la poca attenzione nostra e abbiamo subito 1-2. Però la squadra dopo l'1-2 ha continuato a giocare a calcio senza perdere mai le proprie certezze, ha ripreso un gol, è ripartita al secondo tempo, abbiamo preso un incrocio dei pali subito, abbiamo subito la prima espulsione che secondo me è giusta e poi in 10 abbiamo raggiunto il 2 pari. Credo che sia inesistente il secondo espulsione di Meccariello e visto il cambio di metro di giudizio che è stato al secondo tempo abbastanza fiscale, vorrei rivedere lo schiaffo al primo tempo di Campagnaro sulla Mantia in area di rigore già ammunito. Allora se si tiene un profilo per il primo tempo va tenuto e quindi Meccariello non può mai essere espulso su un fallo del genere. I 9 contro 11 avete rischiato praticamente quasi nulla fino al novantesimo quando c'è stato quell'Euro goal del sole. C'è rammarico per queste due reti del Pescara arrivate a tempo scaduto. Dopo che eravate riusciti comunque a rimettere in sesto una partita non semplice? Sì c'è rammarico perché proprio da quella situazione era stato detto ai giocatori da quella parte di concedere solo il destro e noi ingenuamente siamo andati dietro la palla e abbiamo concesso solo il sinistro. Questo ci serve per crescita, noi siamo una neopromossa con giocatori che devono fare esperienza, che devono capire che per vincere e portare a casa i risultati si gioca sulle attenzioni, sulle piccole cose. Quelle fanno capire che stiamo crescendo ma è un pedaggio che dobbiamo pagare per crescere perché noi siamo comunque una neopromossa e abbiamo giocatori che devono crescere sui particolari. I particolari fanno la differenza, oggi li abbiamo pagati, probabilmente da qui a un percorso di 3-4 mesi non pagheremo più i stessi particolari. Io faccio l'ultima domanda perché poi Liberani deve andare ai colleghi. Sull'analisi della partita ha già detto molto bene prima la qualità del Pescara contro la vostra forse un po' di sattenzione all'inizio. Lei ha affrontato il Verona vincendo in trasferta e tanti grandi di questo campionato. Dove mi colloca il Pescara? Lei ha fatto categorie importanti e ha grande esperienza. Io credo che il Pescara per qualità è della rosa. Credo che oggi, se non sbaglio, siano entrati dei giocatori molto forti, tecnicamente, di qualità. Quindi è normale che in certe partite, speriamente dopo tre partite in otto giorni, poter mettere dentro giocatori di qualità è importante. Pescara, tranne l'anno scorso, credo che negli ultimi 4-5 anni veleggia tra play-off e finale play-off e serie A. È normale che ha una struttura molto più importante. Può stare tranquillamente nel gruppetto davanti. E poi questo è un campionato particolare. La continuità sicuramente ti aiuterà, ma per fare proprio una previsione credo prima di marzo non si può fare. Liberani, un'ultimissima battuta, 10 secondi. Lei ha detto che siamo una matricola, però il Lecce è formazione ambiciosa. Perché sulla carta questo è un organico da play-off? No, questo non è un organico da play-off. Questo è un organico da salvezza e che sta crescendo, sta giocando a calcio, ma perché è nella compattezza. Noi non abbiamo un organico da play-off, abbiamo un organico da una salvezza tranquilla. Questo sì, è quello che stiamo facendo. Poi se i ragazzi, come stanno facendo, si impegnano, lavorano per il gruppo e capiscono che è il gruppo che esalta il singolo per ogni partita, noi non abbiamo giocatori che possano risolvere la partita 4-5 giocatori. Noi abbiamo un gruppo che esalta a turno i giocatori che abbiamo davanti. Perfetto, grazie. Grazie.